Buongiorno No, no, sono me domani Questa è per me, Sara Perché adesso le dici a me Ma io ho un giusto che avevo le dente fuori Perché non c'è una rosetta Ha solo la pionda del fornere Ah, buongiorno, come è una rosetta? Allora, sono venuta qui per trovare a mare Ah, come pensi? La mia dica è ricca, ma che aveva la scoperta Una penna e che la scrive sotto Dibusso? Dibusso 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 Allora, scrivo Zobna E' da E' da bella Giante Scelna Occhio l'ordine Dibusso 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 guardis le belle ma in due albert non lo metto i miei lato che non sai che che aveva una giornata che va a fare oh ma non le sai è pura perché il suo paese potesse la fonte ma se vuoi porticare e si ha detto a me ne dica plena oh anche lì ho compito presto ma te li sarà però ma le brevi sono le brevi non lo metto non lo metto non lo metto e allora guardi questo oh quel è un giugador di pallone solo che è pura non è un po' di sconti ma non lo metto se qui è il giugno ma non lo metto ma non lo metto ma non lo metto tu che è per television ma ma è il pc ma ma scontiamo un po' ma quel che cosa? è una piccola cianella clara ma non lo metto bene le pò ma non lo metto ma non lo metto ma non lo metto ma non lo metto non lo metto ma 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 hai visto in città vostra? No. Ah, questo è quello che si guarda di scegliere sotto, no? Perché un uomo è bello, beat by all, come capivo. E sarà un po' fatica che lo trovo, perché non è che siamo una grande blestra, eh? Ma sono di una bella. Per il quale, la mia mamma non è sempre a te, che è un della bassa, io sempre a te, ma siamo... Questa è la nena Sartulina, dove fai maresora usura. Questo non l'ha detto la vostra mamma? No. E tu, ma, ancora capisci se l'uomo aveva maritè dal po' o se aveva noia a te dal sò? No, no. Ma vuoi mettere a posta. Ascolti. Ma, a vincere, non sai come che so, e se no, a dirà come che potrà fare. Eh, ma se ha un litro, un dico io, come a dirò, d'azienda che a me... Un dico a me, ma a voi, e qui pure un po' dico io. Ciò? Più con Anna, in lei! Qui basta vai! Oi, l'ora da Rosetta, a capirina è che bova, eh? Che sarà un po' di pocello che ha trovato un soggetto che sei. Comunque, adesso, ciò? Chò? Ciò? 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 Ma, a vera mai, aveva lì vandì un cuè, ma conimè, ciò? lì, lì? e poi ho detto, ho sconti quando c'è la senina che a giochè mi adottò mentre c'è la sua perfetta polosa e quando c'è la giochè mi adascondino e i soli cerchèbano, ma, ma, non voglio i soli e poi devo te che la faccia non era necessario ma non lo faccio fagare un figlio chi cosa l'ha fatto il cominoglio mi Karen ha detto, adesso e volevo capire l' problema regg 같이 bando e poi usì ilيد che diceva che è un barocco alla blu e carne a un te. Questo vuol dire, e vuol dire, che se ti da stai e carne, mi ha usato, a stasi fresca. Un'amma un bel e qui il baiocco, ma capivo, e sarà in più sempre che trovi. Facendo un po', facendo così matamento, e me che punti in tiva, perché c'è un barocco in tutto questo dono? Io ho un po' che è tanto, qui sarà quel che tira pure qua d'intervento. Oh, è buono, esbruso, mamma mia, oggi è che mi aveva i sogni, non ho corretto a me ascolti. Sto arrivando a me, allora, se perché non trovo un barocco, la manda il telefono, la mi dici. Adesso hai idea che no, ma ragazzi, che può aver i sogni. alle 53 o al 33 e al 46. Allora, saluta, 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 saluta. Oh, professore, oh, a me fai un favore. Un prevenuto per il signor Ivone a cercare un'uomo. Ascolti, prema cercare un'uomo, adesso si ricomparà. Allora. Allora, metterla. Oh, il sacerà che la signora ha nascosto, mamma mia. Alla saluta. Alla saluta. Oh, buongiorno signora. Buongiorno signora Ivone. Buongiorno signora Ivone. Oh, oh, oh. Come so? Non so come fare. Non so come fare. No, alza qua. Se, le quante salate. Adesso venga a cercare. No, aspetta, aspetta. Come venga? Tamp. Sì. Oh, sì. Blesme specie. Blesme specie. Blesme specie. Blesme specie? Blesme specie, per pem curaggisere. Ma lo ho sicuro. C'è rimane. A faccio un figuro. E lui come è? Oh, ha scritto per voi. Adesso sono qui. Le Umbarò. Umbarò? Avete detto Umbarò, signor Ivonne? Oh, è il signor che non aveva dato niente. Per questo che hanno più molto niente. Ciao va. Allora, ascoltiamo un po', signor Anna Teresa. Adesso, signor Anna. Adesso. Adesso. Adesso mi piaceva, e ho preso i tue, e ho preso i tue. Adesso mi piaceva il mio cuore. Allora, ho sicuro che non avrebbe nessuno di questo, ma che non è nessuno di questo. E ho preso i tue. Adesso mi piaceva Teresa, e lui ha Maria Gastone. Ah, ho capito. Ho messo la Teresa, e lui ha Gastone. Ah, ascolti, a me raccomandano lì l'alzà con chi è aperto il nobile, e siamo in acce come di barbò, parlo dei clocci, parlo l'alzà, io dal manito grande, parlano un po' con me. C'è, c'è, sogna quello, sogna quello. Un'età quello, che ha di fatto a che? Se adesso, guardo tutti i denti e porto un auricolino, perché se ho fare un mureccio, e mi scelto tutti i barbò, però adesso è un po' il passeggerio, adesso tra un po' il passe, ed ecco, un secchio e levo bene, diciamo, parole di salute. Ah, io ho capito. Per me se mi imbarazzo, farò cosa dire. Bene, allora adesso, se siete a testi un attimo, io leggoci a me. Pronto, pronto? Se vi sente, alti un braccio. Pronto, pronto? E vi sente? Alti un braccio. Sì, all'assassionamento. Oh, c'è da cretare, è una prova. Buongiorno, vettina, questa è solo una prova, non doveva mica ripetere, oh! Oh, scusa, non aveva capito. Iiii! Iiii! Buon day, signorana, ha so' Gastone il barone. Buongiorno, signorina, for' Gastone il babone. Buongiorno, signor barone. Ha so' la Teresa. Ah, sì, la Teresa. Accomodiamoci su queste luride sedie così volgare e prive di stile. Ah, sì, la Teresa. Accomodiamoci su queste luride sedie così volgare e prive di stile. Signorina, il galateo dice che la dama abbia la parola per prima, quindi chieda pure. Signorina, il babameo impone che la dama abbia la parola per prima, quindi, dovevo, chieda pure. Oh, scusa, parola, ha so' la Teresa. Non è vero, ha so' la parola di poca. Su via, signorina, non faccia così. Si ricordi che l'amore è un gioco a due, si vince entrambi quanto uno dei due perde. Che l'amore è un gioco a due, si vince entrambi quando uno perde. e non ha più te da saperti in battaglia che va a pinta in buccia a due. Che la dama è un gioco a due, chi vince entrambi. E non ti fonde da questa parte, imbecille, io la metto dal gruppo della sembratuba. Non è vero, non è vero. E ti ha la sapere che tu vince, e cosa fa scantare. Alla, ti fai vedere, figlioina, stavo scherzando. Ah, ma... Teresa, io sono nuovo di queste parti. Mi dica, qual è la strada più breve per raggiungere al suo cuore? Teresa, io sono nuovo di queste parti. Mi dica, qual è la strada più breve per raggiungere al suo cuore? Oh, signor Barò, l'ho un punto in fondo. A vero, al me hai un devil, per alberto i manini e alberto i duccheri. Accidenti, e io che fumo di posto uomini, o dovrebbe andare a vedere lo stesso? Ma stai, stai, idiota. Tu devi calciarci al nebo. Allora, questa le bisogna ripetere. Ma stai, fitto, idiota. Vedete, perché parlo solo io, ma questo non te ne dico ripetere. che non è un'altra... Non mi dico a Bergi. E se con te non ve la capta. No, no, la pregge, signora, la che mi perdona, che mi lascia spiegare. No, 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 signorina, per favore, si fermi, che si che le spieghi, mi perdoni. Volevo dirle che la signora Ibonna che è dimenticata di dirle una c***a